Signore e signori, Talent1! Buonasera a tutti e benvenuti in ottamboli! Buonasera! Favatevi sentire, abbiamo anche... Benvenuti a Talent1, avete visto che negli ultimi mesi abbiamo raccolto video di talentuosi aspiranti tali, gente che crede di avere talento. Beh, insomma, io partirei sent'altro con la sigla... Bravo Tommy! Ho conosciuto un tale, un tale un poco lento, che nonostante tutto era un tale di talento, che aveva del talento, non ci credeva nessuno, per dimostrare il suo talento, il tale è andato a Talent1, se anche fosse un tale... E allora il primo che vi proponiamo della categoria cinema e televisione, primo classificato da voi votato. È un genio! A noi questo ci piace, ci piace, ci piace. È lo Spielberg della Romagna, attenzione! Attenzione! Si chiama Montelic. Montelic che è lo pseudonimo che usa... Guarda, guarda come parte! Con i sottotitoli in inglese. È l'idolo for me too! Eh sì, è l'idolo for me too! Guarda la mutanda anche! Il titolo è il piatto piange? Perché piange? Perché ci sono le cipolle! Il tempo in maniera un po' approssimativa, adesso. Anche in go! Alla conta! Allora baci ci più o no! Attenzione! Prende e inizia a tagliare! Ed eccoci dai! Questo è l'espediente che hai scogitato per... Per commuoverci! Ci commuoviamo tutti! In casa tua ma... Ciccio! Mi sta... Ciccio perché ciccio! Comunque, cioè, deve venirti l'idea, perché questo è geniale! Questo è fuori vero, eh! Com'è? Io voglio sapere, voglio sapere! Eh? Che c'è? A chi? A chi? Tu? A chi? Stai l'orecchio ragazzo, eh! Stai l'orecchio! A chi? Sulla chi? Ovviamente! A chi? Ecco! Ah! Tu! Ah! In the mix! Ah! Cocche! Si sta iniziando a commuovere! Applauso a scena aperta! Applauso, applauso! Sì, mamma mia! Stop! Vai, vai, baby! No, voglio! È uguale! Vai, sì, vai, sì! Parti che sei nessuno, vuoi solo Italia 1? Se poi c'è il Tom Movie, che sogno tutti lì! Taventuro! La tua chance è colata! Ti pregherà! Taventuro! Quando ti fischia un orecchio, pensa alla ghianda!